Limati gli ultimi dettagli della strategia messa in campo dai vertici della Lega che prevede un riavvio della competizione di cadetteria a partire da dicembre. Il Dipartimento Interregionale ha infatti decretato che, salvo provvedimenti che dovessero rendersi necessari a causa di un'ulteriore impennata della pandemia, il campionato di cadetteria riprenderà il 6 dicembre, giorno in cui si disputeranno le partite valevoli per la settima giornata, che si sarebbero dovute disputare lo scorso 8 novembre. Altro giorno da segnare sul calendario è quello del 29 di novembre, questo perché prima della ripresa regolare della competizione sarà necessario recuperare tutte quelle partite che sono saltate a causa del coronavirus. Non solo 29 novembre tuttavia, perché anche questo weekend alcune squadre scenderanno in campo per i recuperi. Per quanto riguarda il Girone F, dove sono impegnate le Molesane, si svolgeranno Vastese, Agnonese e Notaresco Aprilia. Nell'ultima domenica di novembre, invece, spazio ad Aprilia Vastese, Rieti Porto Sant'Elpidio e Cinzia Albalonga Campobasso, dove gli uomini di Cudini dovranno dimostrare di aver mantenuto alta la guardia dopo il lungo stop e di essere in grado di continuare a dominare il campionato. Questo, come detto, salvo cambi di passo dettati dai nuovi DPCM, che a seconda dell'andamento del contagio potrebbero modificare ulteriormente l'assetto istituzionale. Questo perché Natale è ormai alle porte e l'obiettivo del governo è quello di salvarlo ad ogni costo. Grazie a tutti.